A questo proprio bisognerebbe dargli la patente dello stupido, lo dico perché poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Ho mandato una pattuglia a vedere se per caso, come è fatto ad entrare sul tetto, a parte che ha rischiato anche la vita, perché se vedete il tuffo, però sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano la città, pensate se passa una barca sotto, perché se mi accompagna io, pazienza. La ricerca del misterioso tuffatore che si è gettato in Rio Novo dal tetto di un palazzo con una terribile panciata, mentre almeno altri tre complici filmavano l'impresa da diversi angolazioni, è iniziata. Mentre il video faceva il giro dei social network, diventando un caso nazionale, le forze dell'ordine erano già in Camposanpantalon. Il denunciale, più che possiamo, è che la legge è quella che è, purtroppo sono sempre denunce a piede libero, però lo dico ai giovani, guardate che vi rischiate di dominarvi la vita, però questa roba è qua, quando sarà il momento, un domani, che dovrete vivere la vostra vita seria, poi verranno fuori queste stupidate che avete fatto e sono atti delinquenziali. Quanto accaduto a Venezia è vergognoso, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, aggiungendo che fatti del genere vanno puniti con fermezza. Di intollerabile follia parlano i consiglieri regionali leghisti Gabriele Michieletto e Roberta Vianello. Certo è che si tratta di una follia che forse qui ha raggiunto il suo apice, ma che oramai si manifesta in città con una costanza di piccoli e grandi gesti di cui si è perso il conto da anni. Ma perché a Venezia, per usare le parole del dem Jonathan Montanariello, ci si sente liberi di compiere prodezze di ogni genere come se fosse un palcoscenico permanente di idiozie. Sararco è delegata al turismo per la Municipalità di Venezia, Murano e Burano. È evidente che i turisti che arrivano a Venezia vivono a Venezia come un parco divertimenti, un villaggio turistico e quindi decidono di comportarsi come se lo fossero. Ma qui è evidente che c'è anche una responsabilità politica. Noi diciamo da anni ormai che questa amministrazione torni a parlare di residenza, di turismo di qualità, di qualità della vita, qualità del lavoro e così è evidente che queste scene perlomeno diminuiranno. Grazie.